Visita ufficiale a Parigi del Presidente del Consiglio Italiano Gentiloni, che è stato ricevuto dal neopresidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. Economia e lotta al terrorismo sono stati i principali temi che sono stati affrontati. La Francia intende lavorare in stretta collaborazione con l'Italia, ha detto Macron, e anche con la Germania dopo la sua recente visita alla cancelliera tedesca Angela Merkel, con cui condividere i valori per far avanzare e migliorare l'Europa. Si lavorerà, dice Gentiloni, su una politica monetaria europea che vale nella direzione di un'unione fiscale e monetaria meno stringente rispetto al passato e bisogna sempre incoraggiare la convergenza e non le differenze. Siamo paesi talmente vicini che daremo il massimo per quanto riguarda i rispettivi temi, sia per quanto riguarda la lotta economica che quella contro il terrorismo fondamentalista.